il libro delle favole era risaputo che in occasione del compleanno di una persona per augurare che la felicità non mancasse mai nel nuovo anno di vita doveva essere regalato almeno un fiore della felicità i fiori della felicità crescevano in un grande prato al quale si arrivava dopo un duro cammino lungo un impervio sentiero la fatica che si doveva fare per arrivare al prato era notevole e per tale motivo sempre meno persone ci si recavano così i fiori della felicità erano regalati sempre meno era diventata consuetudine dire perché affrontare questa fatica per cogliere e regalare questi fiori la felicità può anche non dipendere da questa forma di augurio così sempre meno fiori della felicità erano raccolti e regalati in occasione dei compleanni passò tempo e ne passò tanto una sera un ragazzo chiese ad un suo amico ma tu sei felice a dire la verità no fu la risposta i due amici pensarono allora di chiedere anche agli altri se fossero felici o no tutti risposero allo stesso modo erano anni che non si ricordavano un anno felice questa condizione comune sorprese i due ragazzi che cominciarono a chiedersi il perché la felicità non c'era più sembrava un interrogativo senza risposta una mattina molto presto uno dei due ragazzi si alzò dal letto e si affacciò alla finestra stava osservando il sole sorgere quando notò che in uno dei vasi di fiori era spuntato un fiore mai visto prima fu incuriosito anche perché il fiore era molto bello lo guardò e mentre lo stava osservando il fiore cominciò a parlare e disse ti spiego io perché non c'è più la felicità era un fiore della felicità spiegò tutto al ragazzo concludendo con questa frase anche noi stiamo sparendo perché nessuno ci viene più a raccogliere e siamo tristi il ragazzo corse subito al grande prato a raccogliere un fiore e lo regalò al suo amico che quel giorno compiva gli anni tutti seppero di questo fatto e tutti ricominciarono ad andare a prendere i fiori della felicità per regalarli alle persone il giorno del loro compleanno come augurio di felicità per il nuovo anno di vita in poco tempo la felicità tornò e i fiori ricominciarono a crescere in grande quantità perché venivano di nuovo raccolti e regalati